Eccellente lavoro, comandante. Come speravamo, la sua vittoria è stata di esempio per tutte le nostre forze. Ora abbiamo squadre d'assalto in tutti i settori intente ad abbattere quelle torri. A dire il vero, ci riferiscono che soltanto una torre è ancora in piedi. Proprio qui, al centro del Mediterraneo, o di quello che un tempo era il Mediterraneo. E si tenga forte. L'unico motivo per cui questa torre esiste ancora è il Nod. Hanno grandi forze presenti in zona e per qualche ragione sembrano intenzionati a proteggere la torre. Solo il cielo sa cosa hanno in mente, ma non è un problema suo, comandante. C'è ancora del lavoro da fare in Italia. Qui gli invasori hanno una specie di nodo di comando. Forse non è casuale che sia a Ground Zero dove il Tiberium fece la sua comparsa sulla Terra. Secondo il Dottore Ibrahim, questo nodo regola la radiazione di Tiberium verso le unità nemiche. Senza Tiberium si bloccherebbero. Se ferma le unità, ferma l'invasione. Comandante, c'è qualcosa che deve sapere. Il generale Granger le ha celato delle informazioni vitali, informazioni che potrebbero salvarle la vita. Sotto la mia guida, il centro armi del GDI ha usato i materiali confiscati al Nod per creare una bomba al Tiberium liquido. E mi sono preso la libertà di armare le nostre truppe. Ora Granger vuole mandarla allo sbaraglio, alla ricerca di una vittoria impossibile. Perché? Perché per lui sono una minaccia politica. Se il mio piano ha successo, lui è irrilevante. O almeno così penseranno i media. E lei diventerà un eroe. Ma solo se la guerra finirà in fretta. Non si tratta di me o Granger, comandante. Qui si tratta di lei. È venuto il suo momento. Lasci la sua firma nella storia. La scelta è una base nemica individuata. Nuove opzioni di discusso. La sentiamo. Trasmissione in errore. Il nodo di comando controlla l'intera forza aliena. Distruggendolo dovremmo riuscire a fermare gli invasori alieni. Le forze Nod presenti in zona sono una minaccia. Elimini la loro base a nord. Inarrestare. Che cosa ha per me? Sì, signore. Prepari tutto, e io li spazzo a terra. In costruzione. In costruzione. Sì? Unità nemica individuata. Attenzione, generatore di faglia. Prepari tutto, e io li spazzo a terra. Conquisti un generatore di faglia o un tempio di Nod. Useremo le loro armi per sconfiggerli. Rilevata, entità ignota. Senza rivali. Beh, diamoci da fare. Raggiungiamo il progetto. Oh! Metterò una sorpresina sotto l'altra. Che cosa ha per me? Carumamut. Discussioni per me. Carumamut brutto. Entro in azione. Il prossimo! Bene! Sono già lass! Oh! Carumamut. Allora, dove sono? Non ci vorremmo. Arriva Pabonatale! Carumamut brutto. Nuove opzioni di costruzione. In costruzione. Bene, diamoci da fare! Costruzione completata. Ammot in avanzamento. Sì, signore. In costruzione. In attesa. Annullato. In costruzione. In attesa. In costruzione. Nuove opzioni di costruzione. Addestra me. Raggiungiamo il fronte. Squadra fucilieri pronta. In costruzione. Squadra fucilieri pronta. Costruzione completata. Squadra fucilieri pronta. Energia insufficiente. Nuove opzioni di costruzione. In attesa. In costruzione. Squadra cecchini. Squadra fucilieri pronta. Squadra cecchini pronta. Squadra missili pronta al combattimento. Costruzione completata. La base è sotto attacco. In costruzione. Unità persa. Addestra mente. Costruzione completata. Unità sotto attacco. Squadra missili pronta al combattimento. Confermiamo il movimento. Squadra missili pronta al combattimento. Unità promossa. Squadra missili pronta al combattimento. Rilevata esposizione al T-Bellin. Andiamo là. Squadra missili pronta al combattimento. Squadra missili pronta al combattimento. Nuove opzioni di costruzione. Squadra fucilieri pronta. Che dobbiamo fare? Squadra fucilieri pronta. Unità nemiche individuate. Costruzione completata. Selezione bersaglio. Unità sotto attacco. Squadra fucilieri pronta. Selezione bersaglio. Selezione bersaglio. Selezione bersaglio. Stuttura conquistata. Generatore di faglia è nostro. Struttura venduta. La base è sotto attacco. In costruzione. Unità persa. Impossibile posizionare qui. Nuove opzioni di costruzione. Unità sotto attacco. Addestramento. Costruzione completata. Venetemi anche a me. Squadra fucilieri pronta. Squadra fucilieri pronta. Unità promossa. Nietitrice sotto attacco. Squadra fucilieri pronta. Nuove opzioni di costruzione. Squadra fucilieri pronta. L'attesa delle coordinate. Squadra fucilieri. Squadra fucilieri pronta al combattimento. A rapporto. Estruzioni completate. Unità sotto attacco. Squadra fucilieri pronta al combattimento. Pirate pronto all'azione. Tutto bene. Squadra fucilieri pronta al combattimento. Ricevo forte e chiaro, comandante. Squadra fucilieri pronta al combattimento. Prima pronto all'azione. Non diamo gli tregua. Tutto chiaro. Firehawk pronto all'azione. Dove andiamo? In attesa. Regi in ascolto. Costruzione completata. In costruzione. Sì, signore. Firehawk pronto all'azione. Bombardiere in attesa. Siamo a posto. Bombardiere in attesa. Tutto a posto. Firehawk pronto. Firehawk in movimento. Firehawk pronto all'azione. Costruzione completata. Raggiungeremo quella zona. Una nave madre ha creato una base avantiata. Stai avantiata. Distruggere la nostra base. La devi verso la base del nod distruggendo le torrette disgregatrici che la c'erano. Attenzione. Tente di nod rilevato. La torretta disgregatrice è distrutta. Tutto a posto. Netitrice sotto attacco. Tutto chiaro. La base è sotto attacco. Luce verde. Unità sotto attacco. In costruzione. In costruzione. Rientriamo alla base. Firehawk pronto. Costruzione completata. Li vedo. Costruzione completata. La torretta disgregatrice è distrutta. In costruzione. La base del nod non è più mimetizzata. In costruzione. Costruzione in corso. Costruzione completata. Impossibile posizionare qui. Costruzione completata. Impossibile posizionare qui. In costruzione. Unità nemica individuata. Manteniamo l'arma pronta. Costruzione completata. Addestramento. Rinforzi pronti. Unità stealth rilevata. La base è sotto attacco. In costruzione. In costruzione. In costruzione. Raggiungiamo quel campo di Tiberium. Tutto bene. Andiamo. Costruzione completata. Mietitrice sotto attacco. In costruzione. Raggiungiamo quel campo di Tiberium. In carazione. Unità sotto attacco. Operazione di raccolta. Unità nemica individuata. Mietitrice persa. La base è sotto attacco. Costruzione completata. Impossibile posizionare qui. Nuove opzioni di costruzione. Firehawk pronto. Li vedo. Selezione bersaglio. Sì, signore. Base nemica individuata. Squadra pronta. Affermativo. Selezione bersaglio. Sì, signore. In vista. Costruzione completata. Unità nemica individuate. Addestramento. Unità sotto attacco. Atteniamo l'arma brutta. Scaldiamoli un po'. Selezione bersaglio. Diamo inizio alla messina. Prepararsi allo spazio. Mantenete la posizione, soldati! Eh va bene. Che c'è? Unità persa. Prepari tutto. E io li spazzo a terra. Unità persa. Base nemica individuale. Attacco. Unità sotto attacco. Trasporto truppe. Pronti all'assalto. Rilevare spazio. Addosso, addosso! In transito. La forza! In attesa delle coordinate. Unità stealth rilevata. La base è sotto attacco. Addestramento. Unità nemica individuate. Energia sufficiente. In costruzione. Non diamogli tregua. Unità sotto attacco. In riparazione. Unità... Siamo gli addosso! Togliamoli di mezzo! Completata. Evviva! Ha funzionato! La nave madre si allontana! Squadra pronta. Fucilieri da questa parte. In costruzione. Impossibile posizionare qui. Unità persa. Costruzione completata. In costruzione. In attesa. Annulato. Unità sotto attacco. Addosso, addosso! Fuoco! Versaglio confermato. Unità persa. Contatto confermato. Non diamogli tregua! Addosso, addosso! Adosso, addosso! Posizione di ferro. La forza! Stiamo arrivando. In transito. Diamogli addosso! In attesa. Mietitrice sotto attacco. Costruzione in corso. In costruzione. Avicino l'elta. Pronti all'assalto. Unità sotto attacco. Nuova rotta ricevuta. Unità nemica individuale. Appandante. Tutto bene. Ok, rientro alla base. Rinforzi pronti. In riparazione. Unità stealth rilevata. Unità persa. Campo di... Juggernaut. Pyrox pronto. Unità sotto attacco. Bersaglio confermato. Selezioni per sentire. In attesa delle coordinate. Questo è mio. In avvicinamento al bersaglio. Rientriamo alla base. A rapporto. Unità nemica individuate. Muoversi. Soordinate. Sono il Juggernaut. Connessione video in corso. Comandante. Ho appena saputo del piano di Boyle. Non posso dirmi sorpreso. Ma per quanto la situazione sembri disperata, non deve assolutamente usare quella bomba al Tiberium liquido. Vorrebbe subito fine alla guerra, ma un'esplosione nella più grande zona rossa avrebbe le conseguenze di un cataclisma. E un'altra cosa. Usi quella bomba e avrà creato inevitabilmente un precedente pericoloso. Non potremo più vivere senza armi al Tiberium. Senza il Tiberium stesso. E noi non lo vogliamo. Non lo vuole il GDI. Lottiamo con onore e coraggio. Lottiamo per debellare il Tiberium. Lasci che le dica chi siamo. Noi siamo coloro che devono proteggere il popolo. Noi abbiamo l'obbligo di ricambiare la fiducia del popolo. Sì, ci sono dei rischi. Sì, ci saranno delle vittime. Ma è la guerra contro un nemico che la razza umana non ha mai conosciuto. Se lei non fa tutto ciò che è in suo potere, se non userà ogni arma per porre fine alla guerra adesso, allora tradisce ogni uomo, donna e bambino di questo pianeta. Faccia la cosa giusta, comandante. E quanto posso chiederle? Faccia la cosa giusta. Bomba al Tiberium liquido disponibile. Selezione bersaglio. Bombardieri in arrivo. Firehawk in attesa di ordini. Bombardiere in attesa. Questo è mio. Squadra fucilieri. Unità sotto attacco. Andiamo ragazzi, muoversi! Ordinate. Verso la nuova posizione. Perfetto! Perfetto completato. Unità attesa. Pucilieri da questa parte. Selezione bersaglio. Avanti! Restiamo uniti! Attenete la posizione, soldati! Sì, signore! Andiamo ragazzi, muoversi! Avanti, forza! Attenzione, non perdeteli! Diamo loro una lezione! Trovate i vostri bersagli! Sì, signore! Sì, signore! Sì, signore! Sì, signore! Sì, signore! Sì, signore! Atteniamo la calma! Artiglieri a morte! Camminatori in movimento! In attesa delle coordinate! Squadra fucilieri a morte! Calma! Tutto bene! Come siamo finci, vorrà molto! Squadra fucilieri pronta! Fondi in sui. Squadra fucilieri pronta! Sono il Juggerdok! Squadra missili nascosto! Artiglieria mobile! Siamo a posto! Tutto a posto! Potenzialmente completato! Unità promossa! Squadra missili a combattimento! Squadra missili a rapporto! Di Agernod! Unità miniche individuate! Firenod pronto! Mettiamoci su bene! Squadra missili bardiere in attesa! Comando ricevuto! Squadra missili a rapporto! Ordinate! Sì, signore! Di Agernod! Squadra missili a combattimento! Unità in attesa! A base nemica individuale! Confermato! Selezione versatilio! Prepararsi allo sbarco! Squadra granate pronta! Come siamo messi! Che cosa ha per me? Capito! So cosa fare! Attenzione! Unità nemiche individuate! In attesa! Qual è la situazione? Tutto a posto! Il portello è chiuso? Rilevata esposizione al tibetum! Ricarichiamo! Verso la nuova posizione! Mettiamoci in movimento! Juggernaut! Allora dove sono? Selezione versatilio! Dai, in vista! Qual è la situazione? Eh, va bene! Che c'è? La base è sotto attacco! Unità sotto attacco! Tutto a posto! Alpa chirurgia! Sono già là! Artiglieria mobile! Mi ha con il porto! Juggernaut! Vai ero in attesa di oggi! Unità persa! Artiglieria mobile! Questo è mio! Bene! Andiamoci da fare! Juggernaut! Come siamo messi? Sono il Juggernaut! Pronti all'astatto! Il risalio confermato! Questo è mio! Addosso! Non si apre in segua! Unità sotto attacco! Stiamo arrivando! Ricarichiamo! Trasporto truppe! Reggetemi! Stiamo agli addosso! In transito! Operazione in corso! Ricarichiamo! Ripetiamo! Avviciniamo! Questo deve essere il letto del fiume Teper! Rilevate posizioni a Tiberio! Diamo gli addosso! Sarà facile condurre la batteria oltre quel Tiberio 8! Diamo gli tregua! Immediatamente! Destruzione! Selezione bersaglio! Una cosa veloce! Addestramento! Rinforzi pronti! Addestramento! In riparazione! Contatto confermato! Operazione in corso! Ecco il nostro obiettivo! Addosso! Addosso! Fuoco! Togliamoli di mezzo! Tropper pronti all'azione! Unità promossa! Ricarichiamo! Qual è la situazione? Carro mamma! Come siamo messi? Pairoc in attesa di ordini! Nuova rotta ricevuta! Unità aspetto aereo! Capito di qual è il piano? Canone ionico pronto! Selezione bersaglio! Unità nemica individuata! Canone ionico attivato! Unità persa! Intostruzione! Lui siamo pronti! Fondi insufficenti! Pronti all'assalto! Destruzione! Mi porto a distanza di tiro! Siamo qui! Sì signore! In riparazione! In riparazione! In riparazione! Trasporto truppe! Informazioni aggiornate! Bersaglio confermato! Non diamogli tregua! Unità promossa! Unità sottoperta! In avvicinamento! Zontrooper pronti all'azione! In avvicinamento! Carro mammoth completato! Caricatori pronti! Si balla! Niente rischi! Una cosa veloce! Immediatamente! In transito! Preparare le armi! Fucine del salto! Unità persa! Fuoco! Avanti! Forza! Unità promossa! Come siamo messi? In attesa delle coordinate! Rinforzi! Fire up pronto! Perfetto! Attecco! Mi ingaggio confermato! Tutto bene! In attesa! Li vediamo! Non diamogli tregua! Sono il Jaggernaut! Unità sottoperta! Che devo fare? Vado subito! Ordinate! Prendiamo tutto al suolo! Concentrazione! Salva di missili! In attesa! Promossa! Qual è la situazione? Apparato promosivo in funzione! Verso la nuova posizione! Sì, signore! Attenzione! Tutto a posto! Siamo a posto! Costruzione completata! Spairochi in movimento! Rilevata esposizione al Tiberium! Impossibile posizionare qui! Ordinate! Base nemica individuata! Unitaso! Pairochi pronto! Tutto chiaro! Ci hanno colpito! Torniamo alla base! Artiglieria mobile! Artiglieria mobile! Mi muovo! Sì, signore! Raggiungiamo il fronte! Operazione di raccolta! Squadra missili a rapporto! Tutto a posto! Non c'è problema! Ci penso io! Jaggernaut! Sono pronto! Squadra missili a rapporto! Trooper pronti all'azione! Unità promossa! Squadra, Don Trooper! Attenzione! Via! Squadra missili a rapporto! Giù la testa! Sì, signore! Squadra missili in ascolto! Carro Mammoth contro il quadro! Squadra missili a rapporto! Sì, signore! Sì, signore! Fondi insufficienti! Siamo qui! Raggiungiamo il fronte! In attesa! Carro Mammoth! Ordinate! Come siamo messi! Verso la nuova posizione! Superiore ritrazionale! La base è sotto attacco! Unità sotto attacco! In riparazione! In riparazione! Senza rivali! Unità nemiche individuate! Unità persa! Siamo a bordo! Giangherlo! Arrupa Mammoth! Spacchiamo il fronte! Arrupa Mammoth! Non è parlo nostro! Fuoco! Devastazione! Arrupa Mammoth! Signore! Togliamo il difetto! Arrupa Mammoth! Partegli a priorità sotto attacco! Rimuovo! Tutto bene! Squadra, Don Trooper! Ok, li entro alla base! Avanzo! Come siamo messi! Squadra fucilieri pronta! Carro Mammoth completato! Squadra fucilieri pronta! Non diamogli tregua! Carro Mammoth! Mettiamoci in movimento! Senza rivali! Non diamogli tregua! Squadra fucilieri pronta! Devastazione! Squadra fucilieri pronta! Tripoliamo tutto! Unità sotto attacco! Squadra fucilieri pronta! Mi avvicino! Unità promossa! Che devo fare? Unità nemiche individuate! Sì, signore! Qual è la situazione? Siamo a posto! Paero Kimo vivendo! Superiore ritroppo! Andiamoci verso la nuova posizione! Carro Mammoth! In attesa! Squadra fucilieri devopato! Devastazione! In linea! In linea! Sì, signore! Squadra fucilieri pronta al combattimento! Superiorità totale! Squadra fucilieri pronta al combattimento! Come siamo messi! Carro Mammoth pronto! Squadra fucilieri pronta al combattimento! Sì, signore! Squadra fucilieri pronta al combattimento! In arrestare! Come siamo messi! Muoversi. E' avvicinato. Muoversi. Diagrano. Sono brutto. E' avvicinato. Martelliamo. E' democchio. Disintegriamo. Muoversi. Entro in azione. Avanzo. E' avvicinato. Martelliamo. Sono brutto. Entro in azione. Che devo fare? Muoversi. Fuoco. Ricarichiamo. Si integriamo. Fuoco. Annientiamone. Devastazione. Ricarichiamo. Carro mammo. E' avvicinato. Distruzione. Unitario in dito. Che devo fare? Ricarichiamo. Entro in azione. Non diamogli tregua. Rimuovo. Senza rivale. Base nemica individuale. Mi avvicino. Entro in azione. Mi avvicino. Unitario in azione. Ricarichiamo. Sono brutto. In attesa. Selezione bersaglio. Squadra granate pronta. Che devo fare? Obiettivo raggiunto. Carro mammo. Unitario in dito è rilevato. Unità promossa. Signore. Passiamo gli scopi. Muoversi. Distruzione. Camminatori. Senti animali. Raggiungiamo il fronte. Mi avvicino. Sì, signore. Togliamoli di mezzo. Fuoco. Integriamo. Integriamo. Carro mammo. Completata. Nienti amore. Fondi in salice. Artiglieria mobile. Manteniamo l'arma pronta. In costruzione. Affermativo. Sono pronto. Carro mammo pronto. Inarrestato. Byrock pronto. Senza rivale. Unità promossa. Mammo in avanzamento. In attesa. Unità sotto attacco. Mettiamoci in movimento. Siamo a posto. Signore. Passiamo gli sopra. Stogliamo il di mezzo. Entro in azione. Artiglieria mobile. Byrock in attesa di ordine. Costruzione completata. Superiorità totale. Mi avvicino. In costruzione. In attesa. Annullato. Impossibile posizionare qui. Carro mammo. Unità sotto attacco. Attenzione. In avanzamento. In avanzamento. Tutto bene. Unità persa. Versario a cacciare. Aggiungiamo il fronte. Vado. Byrock in attesa di ordini. Carro mammoth completato. Superiorità totale. Mammo in avanzamento. Tutto bene. Vado. Vi vedo. In attesa. Sono pronto. Vado. Byrock in attesa di ordini. Non c'è problema. Non c'è problema. Addestrami. Raggiungiamo il fronte. Quadra missili pronta al combattimento. Selezione del sabio. Signore. Quadra missili pronta al combattimento. Carro mammoth brutto. Come siamo messi? Che devo fare? Unità missili pronta al combattimento. Vado subito. In attesa. Base nemica individuata. Quadra missili. Unità superfatti. Unità terza. Entra in azione. Vi avvicini. Quadra missili pronta al combattimento. Di due. Di avvicini. Daggernaut. Signore. Quadra missili pronta al combattimento. Tutto a posto. Quadra missili pronta al combattimento. Unità promossa. Bombardiere in attesa. Che devo fare? Avanzo. Unità di amico. Sono il Juggernaut. Rilevata esposizione al tiberno. Selezione versabile. Juggernaut. Tutto bene. Unità sotto attacco. Li vedo. Che devo fare? Arrumiamo di fronte. Entro in azione. In attesa. Che devo fare? Muoversi. Entro in azione. Muoversi. Selezione versabile. Selezione versabile. Prossimiamo il padre. Rilevata esposizione al tiberno. Priorità totale. Rincaricchiamo. Unità sotto attacco. Rilevata esposizione al tiberno. Rilevata esposizione al tiberno. Rilevata esposizione al tiberno. Raggiungiamo il fronte. Qual è la situazione? Superiore riso al totale. Artiglieria mobile. Selezione versabile. Tenersi forte. Senza rivali. Raggiungiamo il fronte. Uok, qual è la situazione? Stiamo gli addosso! Sono pronto. Destruzione! Unità sotto attacco. Superiorità totale. In attesa delle coordinate. Raggiungeremo quella zona. Carro Mappo. Come siamo messi? Ecco il nostro obiettivo. Raggiungiamo il fronte. Sì, signore. Superiorità totale. Daggernauto, barriere in attesa. Confermato. Verso la nuova posa rivale. Unità sotto attacco. Avanza, ordinate. Ripuliamo tutto. Che devo fare? Carro Mammoth pronto. Rilevate esposizione al ferro. Spairo in attesa di ordini. Devastazione. Non diamo le tregua. Addestra Mammoth. Carro Mammoth. Selezione Versaglio. Prepararsi allo sbatto. Devastazione. Spacchiamole. Selezione Versaglio. Zeta in vita. Sono pronto. Unità trovasa. Unità sotto attacco. Sintegriamo. Divertiamoci. Vado su. Connessione video in corso. Funziona, comandante. Gli invasori si sono fermati. Sono privi di difesa. È finita. Abbiamo vinto, comandante. Abbiamo vinto. Con la grandiosa vittoria riportata oggi, il GDI ha finalmente sconfitto gli invasori. Devo renderle onore, comandante. Ha sconfitto gli invasori e lo ha fatto nel modo giusto. Tutte le turri sono distrutte, tranne quella nel Mediterraneo, dove purtroppo non siamo riusciti a sconfiggere i nemici uniti. Quando abbiamo raggiunto la torre, quella cosa era già impenetrabile. La buona notizia è che è completamente inerte, del tutto innocua. Non sapremo mai per quale motivo l'hanno realizzata. Comunque, non so se lo sa. Boyle si è dimesso questa mattina, altrimenti sarebbe stato accusato di crimini di guerra per aver autorizzato l'uso della bomba al Tiberium liquido. Ma il GDI ora ha una nuova guida, una nuova speranza. Lei è un eroe, comandante, e la storia la ricorderà in questo modo. Congratulazioni, se le merita. Grazie. Grazie. Grazie.